Non c'è un attimo di sosta per il campionato di Serie D che domani torna in campo per un altro turno infrasettimanale. A caccia di riscatto la RGT Cineo, reduci dalla brutta sconfitta ad Albenga. A Romentino arriva l'Astin, grande spolvero e l'imperativo in casa dei Novaresi è quello di vincere. Sabato abbiamo giocato la peggior partita stagionale, sottolinea il presidente Guido Presta. I nostri valori non sono quelli visti ad Albenga, vogliamo essere protagonisti in questo campionato e serve avere continuità per esserlo. Il Lagozzano d'accanto suo affronta il Pinerolo, rientrerà Bianchi dalla squalifica ma saranno ancora fuori probabilmente pedine chiave come Vaggi, Dalmasso e Pereira. Siamo tutti in un frullatore con questi impegni ravvicinati continui, se vinci risali la china, se perdi rimani di bassi fondi. Con il Dertona tutto sommato non abbiamo giocato male ma avevamo di fronte una squadra forte che ha obiettivi importanti e ha evidenziato nella dopo partita mister Schettino. Il Laborgo Sesea sul campo della Fezzanese vuole invece conquistare i primi punti in trasferta. Infatti dei sette che Granata hanno in classifica sono stati tutti conquistati tra le muramiche. In trasferta invece sono arrivate sconfitte pesanti 4-0 ad asti e 4-1 sul campo del RG Ticino.